Ops a tutti, mi cari Upsine Upsine Come state? Come, 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 come state? Spero bene, dai Oggi sono qui solo per voi Per registrare questo video che sarà un misto tra un whispering year to year Molto vicino alle vostre orecchie E un po' di inaudible Li alternerò un po', non lo so, voglio provare a sperimentare Ho anche qui con me la candela, quella scoppiettante che non uso da tanto Magari dopo un pochino l'accendiamo Ok Adesso tu concentrati sulla mia voce In quanto sarà molto vicino alle tue orecchie Parlerò in questo modo un po' più lento Spero che mi piace Spero che mi piaccia Spero che mi piaccia Ok Il punto della bocca della mia voce E mi è stato scritto in un commento che in generale risaltava meglio la mia voce rispetto al pluglietti E quindi ho voluto registrare questo video proprio col task In quanto il pineurale è un po' più semplice da fare Perché l'orecchio destro e l'orecchio sinistro sono proprio divisi qua E quindi ho provare a sperimentare Ho provato a sperimentare Ho provato un po' di acqua Perché mi piaccia Ho portato un po' di acqua Ho provato un po' di acqua Ho provato un po' di acqua questo è un po' di più con l'ultima ripeto l'ultima ripeto l'ultima ripeto l'ultima ripeto ma RA la risa la risa colín si son c rag Adesso posso tornare a fare un po' di whisper Magari più tardi faremo ancora un po' di nautico Oggi un po' così, un po', un po' Atterriamo Oggi Atterriamo Sono anche forse leggermente più vicino alla telecamera Non lo fa, fatelo sapere voi Stasera che sto registrando c'è un poco, 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 poco più di caos Non capisco perché Però vabbè, ce la faremo comunque registrare Tanto tutte le parti, quelle un po' più brutte Un po' più brutte Le toglierò in fase di editing Quindi voi Voi, 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 vedrete soltanto Il video completo e perfetto Poi, non ho idea Se questo video Verrà qualcosa di carino Oppure no Diciamo che con le idee dei miei video Cerco sempre di fare cose un po' più strane E non lo so Di distinguermi un po' Proviamo O comunque Ho già sbagliato due volte Io Morto Mi addormento qua Mi addormento qua Mi addormento qua Sì Allora si stavano un attimo osservando come era fatto dietro il microfono e comunque si parlando del Tascam penso sia un microfono veramente buono che costa in realtà molto, molto, molto poco, costa veramente poco, scusate se non sbaglio il Blue Yeti costa... il Blue Yeti costa tipo tre volte il Tascam o forse... non mi ricordo avendoli presi tanto tanto tempo fa però il Tascam in realtà costa relativamente poco il Blue Yeti è forse tra i più... tra i microfoni più costosi non è ovviamente il più costoso o proprio così però secondo me possiamo classificarlo come alto nella categoria di prezzi questo qua invece secondo me è medio basso è un microfono che possono permettersi tutti perciò anche per cominciare anche per cominciare si può tranquillamente prendere il Tascam dato che in realtà è molto molto utile per appunto fare il Tascam veramente 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 top ok 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 quindi adesso direi che potrebbe essere arrivato il momento per accendere la candela Che ne dite? Che ne dite? Che ne dite? Ce l'ho qui. Devo però fare tutto con una mano. Ok, l'ho stappata. Adesso l'accendo e poi vi faccio sentire. L'accendo e poi vi faccio sentire. L'adoro, l'adoro, l'adoro. E' fortissimo. Secondo me il suono di questa candela è perfetto proprio da sottofondo per fare qualsiasi cosa. Sono scusate, adesso non posso fare più tanti visual trick in quanto con la mano sto tenendo la candela. Un po' di qua. Ok, la teniamo accendo ancora un po'. Si, die vedi la cosa. L'altro. Non all'altro. il rapporto grazie a tutti l'ho appoggiata un attimino qua sotto di me non so se l'ho riuscita a vedere non so se l'ho riuscita a sentire, volevo dire ad ogni modo penso sia arrivato il momento di darti la buonanotte quindi sono qui col dirti adesso tocca a te quanto amo sto suono iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della Ups community e diventare un Upsino se sei un maschietto altrimenti è un Upsino se sei una femminuccia poi il video di oggi finisce qui era un video un po' strano, lo so, fatemi sapere se vi è piaciuto quindi adesso non vi resta che mettere un bel like commentare e niente io adesso vi lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua sotto qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai scegli tu quale ti piace di più quale ti ispira io ora ti devo salutare un po' mi dispiace e nulla dai ti mando quindi un grande grande bacio quindi ci vediamo al prossimo video buonanotte 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 buonanotte